Nel momento in cui una ha iniziato a camminare l'altra ha smesso di correre ora serve un cambio di passo perché Andreazzoli ha si riacceso l'Empoli ma la strada per mettersi al sicuro è lunga Lecce è vivo e sta infilando rimonti importanti ma dopo tre pareggi vuole tre punti Buonasera da Luca Farina e Stefan Svok Castellani Computer Cross Arena Empoli Lecce ci siamo Grazie a tutti Grazie a tutti Grazie a tutti Grazie a tutti